il terzo concorrente velocissimo bravissimo perché a volte si rischia di gettare tutta l'acqua fuori invece è importantissimo mettere l'acqua all'interno del secchio è la volta di Martina bravissima Martina con calma scarica tutta l'acqua è la volta di Davide con la pinna bravissimo facciamo un po' di spazio qua sesto concorrente Giorgia e ora tocca ad Alessandro non riesce a fare lo scarico è la volta adesso della ragazza con la bici pedalare e portare il secchio non è una cosa semplice due minuti trascorsi questa è un'ottima tecnica non è bravissima scarica quasi tutto il secchio e ora è la volta delle cariole ripeto il concorrente dopo aver scaricato il secchio ha la possibilità di riprenderlo per una sola volta questo è il contenuto all'interno della cariola a pieno carico abbiamo anche la nostra cassiera questa sera in campo l'hanno riciclata all'ultima rosaria è completato in questo momento il giro ripartono i piccoli con Sebastiano va a pieno carico Sebastiano scarica in questo momento devo dire che a vista d'occhio cresce l'acqua tantissimo per la primavera velocissima anche Elisa va Federico terzo concorrente i bimbi fanno la differenza un minuto al termine della volta di Martina anche Martina non scherza grande scarico allora mancano 35 secondi 30 secondi vediamo se riuscirà la ragazza a fare il giro 20 secondi in questo momento 15 secondi 10 5 secondi 4, 3, 2, 1 stop, 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 stop non c'è non c'è la 있고요 senza Grazie a tutti.